come ti chiami? Tommaso Baddalena, c'è il nome o il cognome? il cognome è Tommaso il nome, di che anno? Città di Ciampino, 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 ultimamente cosa hai vinto? La rappresenteria regionale, nazionale, che cosa hai vinto? Il titolo nazionale, campione d'Italia, allievi, forza, quindi chissà che esibizione farai adesso il titolo nazionale, campione d'Italia, allievi, per il titolo nazionale, il titolo nazionale, il titolo nazionale, attra, Grazie. Grazie. Grazie.